Buonasera a tutti, mi presento io personalmente, sono l'ingegnera da Zirpoli, sono il direttore tecnico della divisione di calcolo strutturale geotecnico a cui appunto i software dell'ITASCA afferiscono. Come vedremo adesso più avanti tra qualche slide, la nostra azienda si compone di diverse divisioni, molte delle quali dedicate al tema del BIM, però comunque tutte le nostre divisioni offrono servizi di tipo formativo sia per quanto riguarda formazione base che formazione avanzata oppure affiancamenti su progetto, adesso lo vediamo più nel dettaglio. Ok, ok, vediamo un attimo chi siamo. Allora, ARPA CEAS è stata fondata nel 1990 da alcuni ingegneri che inizialmente lavoravano come progettisti strutturali presso la Finzi Associati e CEAS che sono tuttora ovviamente nostri partners e ingegneri appunto che hanno deciso di dedicarsi più che alla progettazione allo sviluppo e alla distribuzione di software sia per l'analisi strutturale che per l'analisi geotecnica. Oggi abbiamo un piccolo gruppo di sviluppo ma essenzialmente ci occupiamo della distribuzione di software e il nostro portfoglio comprende software BIM tra i più diffusi a livello mondiale e software ovviamente per il calcolo strutturale e geotecnico. Come accennavo un secondo fa poi la proposta si completa con i servizi di formazione specialistica per tutti coloro che operano nel settore delle costruzioni ma anche per l'implementazione del BIM nella propria azienda. Questo è un aspetto per noi molto importante, il BIM intendo noi ci teniamo a essere protagonisti di questa trasformazione digitale che sta interessando, che interessa da alcuni anni e certamente non è finita qui, il settore delle costruzioni e dell'adozione del BIM che è certamente un metodo di innovazione della filiera. Ci basiamo sui nostri pilastri per essere protagonisti in questa trasformazione digitale che sono qui elencati, sono l'innovazione, la competenza, l'ascolto del cliente e l'indipendenza. Posso commentare velocemente alcuni di questi aspetti. Competenza, noi ora siamo partiti appunto da quel gruppetto di ingegneri che lavorava in CEAS e in Fins Associati ma oggi siamo in più di 50 tra ingegneri strutturisti, geotecnici e architetti. E cosa vuol dire invece indipendenza? Beh noi dicevo nella slide precedente che noi ci occupiamo anche dell'introduzione del BIM all'interno degli studi delle aziende di progettazione dei nostri clienti e proponiamo dei progetti pilota. Questi progetti sono indipendenti dal parco software che il nostro cliente utilizza. Non necessariamente il cliente deve essere il nostro cliente per quanto riguarda alcuni o tutti i software della filiera, noi crediamo molto in quello che viene chiamato Open BIM e diamo proprio una formazione nell'adozione di questa filosofia, la chiamerei indipendentemente dagli strumenti che il cliente ha a disposizione. Questo è il nostro portfolio prodotti, quindi per quanto riguarda gli strumenti di BIM motoring ricordiamo certamente il tecla structures della Trimble, di DS CAD per quanto riguarda il BIM impiantistico, l'Alplan per il BIM architettonico, il Nova Point per il BIM infrastrutturale. Non li posso citare tutti, citiamo il Solibri come programma di code checking, model checking e clash detection, citiamo il Trimble Connect e il Quadri per quanto riguarda gli ambienti di condivisione dati e di scambio dati e poi abbiamo qui sulla destra parte del nostro pacchetto strutturale, quindi i prodotti che fanno capo alla mia divisione, quindi per il calcolo strutturale ricordiamo i prodotti della Midas, Modest più X Finest e poi per il calcolo geotecnico il Paratie Plus della CEAS e i prodotti Tasca, qui sono citati il FLAC e l'UDEC, ricordiamo anche il PFC, un altro programma elementi distinti, essenzialmente utilizzato in ambiente accademico e poi qui sotto è riportato l'ultimo arrivo in Arpa CEAS che è un prodotto di realtà virtuale da poter utilizzare attraverso degli HoloLens della Microsoft collegati al classico caschetto da poter utilizzare in cantiere. Questi sono di pari passo ovviamente con il nostro portfoglio, questi sono i nostri clienti, quindi che si spaziano tra i progettisti architettonici, geotecnici, infrastrutturali, impiantisti, strutturali, anche qui non li cito tutti, carpenteri metalliche, general contractor, prefabbricatori, imprese di costruzioni fino ad arrivare alle stazioni appaltanti pubbliche. Questi sono i nostri partner, quindi partner istituzionali piuttosto che partner commerciali, quindi partner istituzionali con cui abbiamo dei rapporti di lavoro, possono essere ad esempio le università presso cui facciamo molta docenza, soprattutto in ambito BIM, soprattutto i master, piuttosto che altre tipo, non so, qui viene citato ad esempio l'UNICMI, quindi altri partner per cui sviluppiamo dei software su commessa per le esigenze proprie del cliente, mentre i nostri partner commerciali sono essenzialmente i nostri fornitori, quindi i fornitori dei nostri prodotti software. I nostri servizi, allora qui in questa slide abbiamo nel dettaglio ciò che accennavo nelle slide precedenti, cioè che per chiunque di voi volesse cominciare a introdurre il BIM nel proprio lavoro, nella propria azienda, noi offriamo servizi di formazione base, quindi proprio a partire da un inquadramento normativo giuridico, un'esplorazione delle tecnologie, dei metodi e delle procedure. Dopodiché si può passare proprio alla consulenza, cioè possiamo guidarvi nel vostro primo progetto in BIM, facendo un workshop introduttivo, facendo una valutazione, ecco come dicevo, delle procedure, delle tecnologie che attualmente utilizzate, quindi non necessariamente dovete utilizzare i nostri prodotti software. Vi accompagneremo in un'evoluzione di queste procedure, in un'evoluzione procedurale, documentale e operativa, fino al conseguimento della certificazione BIM e noi stessi siamo certificatori per BIM Manager, BIM Coordinator, BIM Specialist e CDE Manager. Noi abbiamo anche una divisione di sviluppo e personalizzazione software, prima citavo la Unicmi, per cui abbiamo sviluppato un software sulle loro esigenze, essenzialmente in quel caso lì si trattava di modellazione, analisi e verifica di scaffalature metalliche profilate a freddo, ma le esigenze possono essere le più disparate. Noi facciamo certamente prima una valutazione comunque delle esigenze del cliente, fino a proporre o delle customizzazioni eventualmente di software già in loro possesso, oppure proprio lo sviluppo di applicativi nuovi ed anche oserei dire innovativi. Per quanto riguarda la mia divisione in particolare, come accennavo un po' all'inizio, anche noi ci inquadriamo all'interno dei servizi e dei colleghi che si occupano di BIM, quindi quello che possiamo fare è anche qui analizzare le competenze metodologiche del cliente di fronte appunto alla sua problematica di analisi e di calcolo, analizzare la complessità del modello e intervenire con apposite strategie di modellazione, lo guidiamo fino all'interpretazione dei risultati e passando, per cosa molto importante secondo noi, passando attraverso la validazione dei modelli di calcolo che oggi si rende sempre più necessaria perché si ha un po' la sensazione di perdere di vista il cuore del modello, ciò che viene veramente passato al solutore a causa di queste interfacce grafiche che sono molto potenti e che ci permettono praticamente quasi di disegnare a mano libera il nostro modello. Sviluppiamo all'interno il nostro team di sviluppo, tra le altre cose, sviluppa link di interoperabilità tra software di calcolo e modellatori BIM, pensiamo ad esempio al link Tecla Midas piuttosto che il link Tecla Modest o il link Midas Flac. Queste sono le altre nostre attività, invece supporto tecnico, quindi assistenza tecnica, telefonica via mail, tutti i giorni, tutto il giorno, è la nostra attività principale e poi ancora una volta la formazione, quindi affiancamento su progetto piuttosto che formazione base avanzata personalizzata piuttosto che collettiva. Questi sono alcuni creatori di percorsi formativi, cosa vuol dire? Vuol dire ad esempio che noi prestiamo la docenza sia in corsi ma sia in seminari presso praticamente tutti gli ordini degli ingegneri, nonché appunto siamo docenti in diversi master BIM, in diverse università in tutta Italia. Noi contribuiamo anche attivamente alla scrittura delle normative BIM sia a livello italiano sia a livello europeo. Siamo ad esempio coinvolte nel progetto Samba proposto dalla regione Lombardia che è essenzialmente un progetto che si occupa dello sviluppo tecnologico di un edificio per co-working, facendolo, diciamo, l'idea è quella di trasformarlo in quello che viene denominato comunemente smart building applicando attraverso l'applicazione delle tecnologie emergenti 5G e IoT. Questi sono alcuni nostri clienti di tutta la filiera e questi invece sono alcuni nostri clienti del mondo dell'università e della ricerca. E questi sono alcuni numeri dell'anno scorso. Ok, dovrebbe essere l'ultima slide, questa. Vabbè, questo fa sempre parte, uno, diciamo, dei numeri sempre dell'anno scorso di cui siamo maggiormente orgogliosi. E ho finito di tediarvi, quindi vi lascio la parola all'ingegner Bolivar. Buonasera a tutti, mi presento, sono Juan Sebastian Bolivar Basco, sono ingegnere civile, ho fatto i miei studi di laurea magistrale in ingegneria civile indirizzo geotecnica al Politecnico di Torino alcuni anni fa. Recentemente ho finito il corso di Master di secondo livello al Politecnico di Milano in Tunnel Engineering. Voglio presentarvi questo webinar con titolo analisi numerica al continuo con FLAG 3D e al discreto con 3DEC di Galleria Informazione Anisotrope. Presenterò un esempio di scavo dove farò vedere un confronto tra i diversi software e capire, diciamo, quali sono le potenzialità di diversi software che abbiamo. Attualmente volevo anche raccontarvi che sono ingegnere geotecnico di Gallerie in Arup Italia. Mi scuso inizialmente se magari il mio italiano non è al 100% eccellente, però preverò a fare il meglio per farvi capire tutte le informazioni che voglio condividere con voi. Arup è un'azienda internazionale che si occupa principalmente di progettazione e consulenza di progetti di infrastrutture in tutto il mondo. Noi svolgiamo i nostri servizi nel settore delle infrastrutture, sia dell'edilizia che anche della parte del consulting, vedendo qua in questo momento alcune fotografie che rappresentano alcuni dei nostri più importanti progetti in cui abbiamo partecipato sia qua in Italia che anche all'estero. Vedete delle opere in sotterraneo, vedete ferrovie e alcune opere di edilizia per il terzario, alcuni master plans e alcune strutture anche sportive in cui abbiamo partecipato come consulenza e progettisti. Arup è un'azienda che in Italia si stabilisce circa nell'anno 2000, come risponde a una domanda sempre diciamo della crescente consulenza tecnica nel settore dell'ingegneria e attualmente conta con oltre 15 mila persone in più di 34 paesi nei diversi continenti al mondo. Noi i nostri progetti implementiamo l'applicazione di diversi principi per lo sviluppo della sostenibilità e dell'economia circolare tenendo in conto diciamo il sviluppo di un mondo diciamo che sia molto più etico e sostenibile. Quindi in questo webinar quindi vi presenterò questi argomenti principali che sono la parte di rock mechanics e le formazioni anisotrope, parleremo anche della calibrazione dei parametri geomeccanici che escono i comportamenti delle ammassi rocciosi e vi descriverò i software, il programma di calcolo FLAC 3D e al discontinuo il 3DEC affrontando un esempio di scao per una galleria profonda in queste formazioni anisotrope. Poi vediamo anche i risultati che abbiamo ottenuto sul supporto previsto della galleria e faremo le conclusioni e un confronto tra i risultati. Quindi normalmente gli ammassi rocciosi possono venire analizzati come un comportamento lineare elastico, omogeneo e isotropo, però in realtà alcuni tipi di roccia, principalmente le rocce sedimentari e metamorfica, hanno un comportamento anisotropo che dipende principalmente dalla sua stratificazione o foliazione e i diversi piani di discontinuità che li attraversano. Quindi questa è la caratteristica principale che hanno tantissimi ammassi rocciosi, li rendono con un comportamento complesso in cui a livello ingegneristico dobbiamo andare a cercare come il suo comportamento a livello più realistico possibile. Qua vediamo degli esempi per come possiamo vedere questi ammassi rocciosi in diverse scale, tenendo in conto le geometrie degli scavi, quando possiamo vedere l'anisotropia diciamo in modo più concreto e anche tenendo in conto anche la diversa direzione di diversi piani di discontinuità che creano gli ammassi rocciosi, come si può vedere questo comportamento anisotropo degli ammassi. Inizialmente voglio descrivere un po' quali sono queste caratteristiche principali geologiche e geotecniche che descrivono questo comportamento. Vedete un po' di immagini dove si può osservare chiaramente quali sono questi piani di discontinuità che rappresentano questo comportamento anisotropo e che devono essere caratterizzati sia a livello geologico che geotecnico per capire quali sono questi parametri che descrivono il comportamento geomeccanici di questi tipi di rocce. Qua abbiamo un esempio, vi presento quali sono per questo diciamo esempio di scavo, quali sono i diversi sistemi di discontinuità, vedete quali sono diciamo le deep e the direction che rappresentano diciamo le famiglie principali di discontinuità e le sue caratteristiche come le spacing e la persistence. E inoltre è anche importante capire in queste ammassi rocciosi e soprattutto in alte profondità come la stress condition o come la condizione dell'estate tensionale iniziale per capire quali sono diciamo le direzioni che siano più convenienti per localizzare le nostre opere in sotterraneo, che descrivono diciamo il suo comportamento a livello principalmente tenso e formazionale. Qua diciamo per presentarvi un esempio, proverò a spiegarvi utilizzando i diversi software di calcolo, una galleria che si trova abbastanza profonda in circa 360 metri di profondità con una geometria di shape di circa 15 x 15 metri con diversi construction sequences. Qua possiamo vedere qual è una diciamo un estimativo di come si può considerare la construction sequences per questa galleria. Vediamo che abbiamo un conicolo centrale nella parte superiore, poi abbiamo i due laterali che si scavano diciamo uno successivo all'altro con sempre l'applicazione del rock support per garantire la stabilità diciamo della roccia scavata e poi abbiamo l'upper branch che praticamente rappresentano gli ster successivi per garantire diciamo la stabilità del nostro scavata. Qua diciamo partendo dagli analisi analitici e empirici possiamo predefinire un rock support che normalmente in queste condizioni viene rappresentato per rock balls. In queste condizioni abbiamo questi rock balls di 32 mm di diametro e una resistenza di 420 kN e abbiamo anche un shocker di una mesh che mi possono diciamo garantire anche una stabilità di alcuni blocchi di roccia che siano più piccole in condizioni diciamo in short and long term. e voglio prima iniziare a farvi vedere è un modello continuo quindi flag è un software che praticamente lavora in differenze finite che diciamo permette di modellare queste gallerie in condizioni continue per capire come il suo comportamento diciamo in quanto a tensione formazioni ok quindi FLA che è un programma diciamo con molte potenzialità principalmente nell'ambito di piccole e grandi di formazione e sia diciamo principalmente utilizzato per le opere in sotterraneo quindi analizzando un modello elasto plastico considerando inizialmente un modello che rappresenta le condizioni diciamo semplificate di questo ammasso roccioso vediamo come sono le condizioni di inizial stress quindi come sono le condizioni iniziali delle tensioni tenendo in conto diciamo la profondità dell'opera e anche l'estate tensione all'orizzontale in questo ammasso roccioso. Qua vediamo la procedura di scavo quindi abbiamo modellato propriamente le construction sequenzi installando tutto il robot si tutti diciamo le fasi costruttive dello show grid e modellizzando diciamo tutta la costruzione sequenzi in modo più realistico per capire come si comporta la nostra galleria. Qua iniziamo a vedere un po' dei risultati dove vediamo come sono gli spostamenti che si creano mentre andiamo avanti con le diverse fasi di scavo e quali sono diciamo i valori massimi che possiamo raggiungere degli spostamenti che possono possiamo permettere tenendo in conto la stabilità e la plasticificazione del nostro ammasso roccioso. Qua vediamo un po' dei diversi punti per capire quali sono questi spostamenti che si possono creare per capire come sono gli andamenti degli spostamenti nella direzione longitudinale e nella direzione verticale. In queste figure e questo piccolo video possiamo vedere come si crea diciamo la zona di plastificazione del materiale tenendo in conto questo modello elastoplastico e come diciamo sarebbe il raggio elastico che abbiamo in queste condizioni di mobilizzazione. In questa slide possiamo vedere quali sono i valori di forza aziale massimo che possiamo raggiungere nei robos dove possiamo avere valori di circa 300 kN. Grazie. Allora continuiamo con la presentazione. In questa parte vi presenterò come fare la calibrazione di diversi parametri geomeccanici che ci permettono di validare e soprattutto di capire quali sono questi parametri di input fondamentali per questi diversi programmi di calcolo. Quindi praticamente questa calibrazione di parametri l'ho lavorata nei due software facendo delle analisi di laboratorio numeriche e confrontandolo con tutte le prove di laboratorio sia di carico unianziale sia di carico trianziale che abbiamo fatto per i diversi campioni di roccia e confrontando i risultati per capire qual era questa calibrazione di parametri che rappresentano la discontinuità e la matrice rocciosa. Quindi ho lavorato sia con due modelli costitutivi nell'ambito continuo che sono Ubiquiti Joint Model e Anisitropic Elastici Ubiquiti Joint Model, Caniso Model, che rappresentano diciamo semplificatamente le discontinuità all'interno dei nostri modelli continui. Invece ho fatto anche un confronto con il modello discontinuo Tridec dove rappresento direttamente tutte le joint che ho all'interno del mio modello e poi lavorando direttamente con questi elementi distinti che mi rappresentano tutti i blocchi di roccia che si possono creare tenendo in conto tutte le discontinuità che abbiamo all'interno della massa rocciosa. Quindi se vedete qua abbiamo un campione dove rappresentiamo numericamente questa prova e in questo caso ho lavorato sia prove unianziali e trianziali di far vedere per ora la condizione solo unianziale dove prendiamo praticamente questo campione e facciamo diverse prove con diversi angoli e inclinazioni della nostra discontinuità principale che in questo caso sarebbe la stratigrafia e facciamo variare questo angolo per capire come varia la resistenza del nostro amasso roccioso. Quindi analiticamente qua abbiamo la teoria di Jagger & Cook che praticamente si rappresenta come questa variazione della resistenza alla comprensione del nostro amasso roccioso tenendo in conto questa variazione dell'inclinazione della discontinuità. Quindi ho partito con questo modello di Ubiquity John Model. Praticamente ho inserito all'interno del mio test la discontinuità principale che sarebbe la stratigrafia e ho variato i diversi angoli per capire quali erano i valori di resistenza massima per calibrare i parametri che rappresentano la discontinuità. Come vedete tenendo in conto dopo che alla fine ho calibrato i miei parametri delle discontinuità della masso roccioso ho molto simile, cioè ho un comportamento evidentemente variabile con l'inclinazione della discontinuità e molto simile anche alle prove di laboratorio che avevamo fatto per i campioni estratti dalla masso roccioso. Qua vedete anche un confronto con gli UCS di Equivate in Continuit Rock Mass che ho rappresentato nel Morculon che praticamente questo rappresenta diciamo un valore medio di tutti i valori di resistenza alla compressione della masso roccioso. Come vedete anche in FLAC e in TRIDIC ho valori molto simili quando ho fatto questo lavoro tenendo in conto tutte le discontinuità quindi posso capire che comunque diciamo riesco a rappresentare nei due modelli abbastanza bene questa parte della resistenza. Ma se lavoro col modello Ubico2John posso capire che comunque nel rango elastico chi controlla diciamo il comportamento della masso roccioso continua ad essere sempre la matrice rocciosa invece delle discontinuità quindi non riesco a vedere nel modello Ubico2John queste condizioni anisotrope nel rango elastico solo le riesco a vedere nel rango plastico quindi con l'aspetto di massima resistenza che posso avere qua vediamo l'inviluppo e qua possiamo vedere come si mantiene per diversi angoli di inclinazione della discontinuità come si mantiene in ambito elastico quindi si mantiene sempre stesso comportamento della masso roccioso. Poi ho fatto anche un'analisi con l'anisotrope elastico Ubico2John model questo modello praticamente mi rappresenta una condizione dove posso verificare come il comportamento della masso roccioso in condizioni anisotrope però non riesco a capire quali sono le condizioni su questi angoli diciamo di discontinuità perché in queste condizioni praticamente posso vedere che chi controlla sarebbe la masso roccioso però in realtà non riesco a capire quale sarebbe la resistenza massima per questa discontinuità cioè il failure lo ottengo sempre quando ho soltanto questi angoli di inclinazione e quindi non riesco a capire come si comporta diciamo a livello elastico plastico e la masso roccioso tenendo in conto gli angoli più piccoli e gli angoli più grandi di 70-80 gradi di inclinazione. Qua abbiamo alcuni grafici che rappresentano le prove numeriche che ho fatto per validare e calibrare diciamo i parametri. Quindi nel modello anisotropo riesco a capire in realtà nel rango elastico come c'è la variazione diciamo dei parametri elastici e la masso roccioso però non riesco a capire nel rango elasto plastico quale sarebbe la resistenza massima raggiunta. Quindi sono comunque modelli che a livello continuo riescono a semplificare il nostro comportamento della masso roccioso però non è il più realistico possibile. Quindi tenendo in conto questi risultati ho deciso comunque per questo scavo di andare un po' più al dettaglio e inserire in un modello discontinuo con elementi discreti nel tridec come sarebbe il comportamento di questo scavo della galleria tenendo in conto i diversi sistemi di discontinuità. In queste slide possiamo vedere la nostra mesh che rappresenta le condizioni della matrice rocciosa e anche tutti i blocchi di roccia che si possono creare tenendo in conto tutti i diversi principal joints che abbiamo nella mia formazione rocciosa e una view della nostra galleria dove possiamo avere tridimensionalmente con il nostro scavo come si possono creare i diversi blocchi di roccia nel contorno della galleria. Qua ho sempre modellato la nostra galleria tenendo in conto tutte le diverse fasi di scavo quindi nella parte del top heading e nella parte del bench e tenendo in conto anche l'escavazione successiva e installazione successiva del supporto sia dei rockballs che degli elementi di shocker. Qua possiamo vedere velocemente lo stato tensionale e come vedete ci sono alcuni punti che magari riescono a essere un po' deviati con rispetto ai punti perché comunque fare questi modelli dove la mesh in realtà risulta una mesh molto molto complessa e riescono a avere il tipo di punti che possono generare alcuni incrementi di tensioni tenendo in conto la spaziatura e le caratteristiche di discontinuità. In questa slide possiamo vedere graficamente quali sono gli spostamenti che si possono ottenere alla fine del nostro scavo. Potete vedere che comunque ci sono i blocchi che realmente si spostano e possiamo vedere più chiaramente come sono questi spostamenti individuali di diversi blocchi di roccia che si possono creare quindi è veramente un modello che mi rappresenta sia le condizioni tensione formazionali che anche le condizioni di stabilità dei blocchi in roccia che è abbastanza diciamo grafico e anche abbastanza realistico con rispetto ai comportamenti di questi ammassi rocciosi. Qua possiamo vedere uno dei punti che ci troviamo diciamo nella callotta della nostra galleria e dove possiamo vedere per un punto in particolare come diciamo l'andamento degli spostamenti con le fasi di scavo. In questa grafica possiamo vedere come sono gli aspetti di plasticità sia delle discontinuità che sia anche l'ammasso roccioso quindi possiamo vedere che diciamo tutti i due elementi siano le joints che anche la matrice rocciosa rappresentano chiaramente siano gli aspetti elastici che anche gli aspetti plastici. Qua possiamo vedere anche come sono diciamo i carichi che normalmente si riescono a ottenere in queste condizioni nei rocciosi quindi possiamo vedere quali sono questi massimi forse sia di trazione che si possono raggiungere nel nostro robot. Quindi questo qua, questo modello diciamo ci serve soprattutto per validare alla fine i nostri calcoli e le nostre progettazioni quale sarebbe il supporto più ideale o che garantisce diciamo la stabilità dei nostri scavi e capire diciamo con i diversi software, con i diversi diciamo ipotesi e assunzioni che facciamo e in realtà quale rappresentano diciamo le condizioni reali dei nostri scavi. Infine in conclusione quindi certamente possiamo capire l'importanza di rappresentare questi comportamenti anisotropi degli amassi rocciosi principalmente dovuti alla stratigrafia o foliazione delle rocce e anche capire che esistono diversi tipi di approcci sia il continuo e il discontinuo per modellare queste opere sotterranee e capire qual è il suo comportamento e anche vedere che ci sono diversi modelli costitutivi e anche di diversi tipi di calcoli sia nell'ambito elastico e l'asseplastico che mi possono rappresentare o limitare alcune diciamo condizioni reali che succedano nelle scavi di queste amassi rocciosi. Capirei anche l'importanza dei parametri di input quindi la calibrazione di quali sono tutti i parametri da inserire in questi software che comunque rappresentano quali sono diciamo le condizioni di calcolo che rappresenteranno e diciamo che saranno i valori più importanti per capire come sono i risultati quindi l'importanza di calibrare questi parametri che rappresentano geomeccanicamente il comportamento delle amassi rocciosi della maniera più realistica possibile e poi capire che ci sono diversi tools sia diversi tipi di software e diversi tipi di analici che certamente tenendo in conto la fase progettuale in che siamo per ogni progetto sia la parte di concept design o feasibility design o tender o detail design ci permettono certamente di ottimizzare e garantire la sicurezza ai nostri scavi di amassi rocciosi. Grazie per la vostra partecipazione se avete qualche domanda certamente sono disponibili a risponderle. Grazie. Grazie mille e arrivederci a tutti. Buon lavoro. Buona serata. Grazie.